Grazie a tutti. Non vi sono parcheggi e rispetto della viabilità. Vi faccio un esempio. Noi in via Castellentini, in via Pendapoli abbiamo il cosiddetto sosta oraria. Significa che ogni cittadino può parcheggiare la propria auto per un'ora. E ne tantomeno li fanno rispettare chi di dovere. Ora, quello che io chiedo alla Polizia Municipale è sostanzialmente di tenere presente che noi abbiamo parecchio bisogno di parcheggi nel nostro paese. Vi faccio un esempio. Io avevo fatto qualche anno addietro qualche proposta in merito a quel rudere di fronte al parco Senia, per capirci, in via Castellentini. C'era un rudere che era in vendita, che avevo fatto la proposta all'amministrazione per poter acquisire e creare appunto un parcheggio in modo che la gente potesse parcheggiare la propria auto e farsi una passeggiata per fare shopping nelle vie di Priolo o nei supermercati adiecenti. Tutto questo non ho avuto mai risposta. Chiedo ancora una volta, per esempio a San Vocà, presso la piazza Reno, noi di fronte a piazza Reno, quindi lato monte, noi abbiamo un grosso spazio e vicino la costruente o edificio scolastico abbiamo una grossa zona che potremmo benissimo sfruttare a parcheggio. E si presterebbe, visto che c'è il campo sportivo, si presterebbe benissimo a quello che è l'obiettivo della proposta che sta facendo il Faro. Perché? Perché noi dobbiamo pensare che a Priolo le macchine sono raddoppiate e in qualche senso, in qualche maniera, noi dobbiamo parcheggiare l'auto. Quindi sapete benissimo, soprattutto i residenti delle cosiddette palazzine Singat, che chiaramente le macchine li parcheggiano dovunque, all'interno delle proprie abitazioni, nei parcheggi riservati ai residenti. Quindi vi è la necessità di creare un parcheggio all'interno o comunque nelle vicinanze della piazzetta Reno in San Vocà. Quindi questa è la nostra idea che la lanciamo così, diciamo, dalla voce del silo di Salvo Maccarone. Ma chiaramente su questo faremo un valandino ben definito, ben circostanziato. Pertanto per il momento è tutto, poi entreremo nei particolari.